Una mobilitazione per martedì 16 gennaio in piazza della Resistenza per dare un segno di svolte e di rinascita. E' il messaggio che vuole lanciare il Comitato Verità, Democrazia e Partecipazione, un collettivo che vede al suo interno varie realtà associative cittadine, in risposta agli arresti scaturiti dall'operazione Stige, che ha visto coinvolte 169 persone, tra cui rappresentanti istituzionali, e che ha visto la provincia di Crotone il fulcro di tutto. Un gesto per discutere, ragionare e costruire l'antimafia, per incontrare i cittadini onesti che vogliono combattere e annientare tutto il marciume che vede unite la criminalità organizzata, i colletti bianchi e le istituzioni colluse. Aspettiamo tutti i cittadini e le cittadine libere, democratiche della nostra città, le forze sane a venire in piazza e a chiedere spiegazioni alle istituzioni rispetto a quello che è successo e rispetto alle preoccupazioni che abbiamo. Chiediamo alle istituzioni di dirci se hanno preso per vincere i voti dell'Andrangheta, chiediamo alle istituzioni se hanno avuto pressioni e se hanno pressioni dall'Andrangheta rispetto alla gestione di soldi pubblici, di autorizzazione e di quant'altro. Chiediamo di essere quantomeno presi in considerazione perché la città di Grotone deve dare una risposta a questa barbarie. Giuseppe Laratta per la Cineos 24